Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale di YouTube. Oggi secondo video di giornata, anche se l'orario è un po' strano, ma è necessario perché EA ha rilasciato quelle che sono le informazioni relative alla promo Team of the Season so far, ovvero Team of the Season fino a questo momento. Di fatti, insomma, sappiamo che i vari campionati sono tutti quanti sospesi e di conseguenza anche la promo dei Toz deve subire un cambiamento per poter vedere la luce anche quest'anno. Andiamo quindi ad analizzare quella che è la schermata della promo, la vedete qui a schermo, è in inglese ma ve la vado a tradurre senza problemi. Dunque, cosa sono i Team of the Season so far? Quello che vi ho detto, Team of the Season è una delle, insomma, più anticipate promo sul calendario di foot, in quanto sappiamo che il mondo del calcio si trova in una situazione mai vista prima. Team of the Season so far è la possibilità di andare a celebrare quelli che sono i migliori giocatori di ogni campionato fino al punto in cui siamo arrivati nella stagione. In maniera tale che possano ottenere lo stesso speciale oggetto che avrebbero ottenuto al termine della stagione e, insomma, mentre aspettiamo tutti quanti che il calcio possa ritornare. Mentre, insomma, tutti i campionati, eccetera, 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 comunque i giocatori verranno catturati by Team of the Week, Man of the Match, eccetera, qualora il calcio dovesse ritornare, non ci sarà invece un altro Team of the Season dopo questo. Ovviamente daranno altri dettagli nel corso delle settimane, ma a partire da oggi ci sarà la votazione del Community Team of the Season so far, che cos'è il Community Team of the Season so far? Ovvero il primo team che verrà votato da noi sulle community di Footwiz e Foothead. Saremo in grado di votare, insomma, da un elenco di calciatori in base a quelle che sono le performance che hanno, appunto, ottenuto nei loro campionati, basate anche su un massimo di carte speciali che hanno ritenuto e ottenuto su Foot20. Da questa shortlist dobbiamo selezionare 23 giocatori con un massimo di 5 per ogni campionato, almeno 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti e almeno 3 attaccanti. I 23, ovviamente, maggiori che riceveranno più voti saranno eletti e il Community Team of the Season so far verrà rilasciato a partire dal 24 aprile, quindi tra una settimana, alle 6 del pomeriggio, orario inglese, quindi 19, orario italiano. Di conseguenza, questo è quanto per quanto riguarda la promo dei TOTS, quest'anno EA risponde così. Per quanto riguarda le votazioni, vedete, questa per esempio è la pagina di Footed, di Footwiz, voi andate qui, potete andare a selezionare quelli che sono i giocatori, per esempio, vedete, tra i portieri ci sono Courtois, Gulak, Sileno, Sirico, Rulli, Livakovic e Kolar, eccetera, eccetera. Una volta selezionati tutti i giocatori, poi andate a fare Submit My Squad e, insomma, il vostro voto viene registrato. Quindi spero che questo piccolo video, insomma, vi sia piaciuto, vi abbia, insomma, dato la possibilità di capire bene come andrà a funzionare il tutto. In un prossimo video magari vi faccio vedere qual è la votazione che vado a fare io personalmente. E nulla, ragazzi, non mi resta che salutarvi e vi aspetto, come al solito, in live su Twitch, dalle 12 alle 16, dove magari ci andremo a fare anche lì la votazione della mia community. Un salutone, ragazzi. Peace.